Stacco della macchina in questo momento con Nextgil che emerge, fa partenza anche Otero Caff, sbaglia oroscopo. Nextgil al comando, Otero che incalza, 200 in 13 e 3. Numero 5, oroscopo, squalificato. Va su Nextgil e sfila. La terza posizione per Ohan, dei greppi su Oiran Pan, squalificato oroscopo, quarto iniziale in 28, Otero al comando. A largo scoperto è rimasto Regombevi, lo segue Nimi Rod. Intanto in vantaggio è sempre Otero Caff, il passaggio ai primi 600 in 43,7 sul neuronometro. Nextgil che lo segue davanti a Ohan, dei greppi. Allargo Regombevi, terza ruota per Nimi Rod, poi Oiran Pan, 800 in 59,2. I cavalli che vanno verso l'imbocco della curva conclusiva, Otero Caff al comando, mille iniziali in 1,13. Nextgil raggiunto da Nimi, poi Ohan, dei greppi a Regombevi e Rampan in coda al gruppo, 4,50 alla conclusione. Con Otero sempre saldo battistrada. 15,1 l'ultima frazione, 1,28,2 i tre quarti di miglio. Otero, Nini a largo di dentro, Nergil. Retta di arrivo con Otero in vantaggio. Nergil di rincalzo, Nini al largo. Poi Oiran Pan, di dentro Andegreppi, Otero Caff al comando su Nergil, Nini e poi Oregon Baby. Nel finale, Otero Caff su Oregon Baby, Nergil MMG, Nini Rod e Oiran Pan. 1,56 e pochi spiccioli, la media intorno all'1,12,7,12,8. Il successo per Otero Caff da favorito con Lorenzo Alessi. Il training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Rosario Giacchino Vitanza. La quota al totalizzatore, 1,36. Il training di Gennaro, i colori della sc Ronaldo, Nini al Grazie a tutti.